Musica Allora incontriamo il presidente dell'autorità di sistema portuale Agostinelli, lo ritroviamo, lo ringraziamo dopo il bellissimo incontro alla Biennale dello Stretto, abbiamo parlato diciamo lato Tireno, adesso siamo sul lato Ionio, siamo a Crotone, Crotone anche qui l'attività dell'autorità portuale di sistema è estremamente nevralgica nell'aver preso in mano un po' l'iniziativa diciamo di partire forse dal porta come sta succedendo anche in altre parti diciamo nel Mediterraneo soprattutto in Italia relativamente al fatto che la linea di costa rispetto ad altri punti storici, nel dialogo anche alcune volte conflittuale con la città, oggi invece diventa un punto di rigenerazione importante. Quindi la prima domanda che vorrei fare al presidente per poi dialogare sia con la sua intendenza che con i due presidenti nell'ordine di Siracusa, Sonia Di Giacomo e Francesco Olivadotti di Crotone che sono le due città che stavolta metteremo proprio a confronto, proprio per la peculiarità del rapporto con le linee d'acqua sulla costa ionica calabrese siciliana, ma presidente ci racconti un po' la visione strategica che sta mettendo in atto su Crotone, il progetto che dal quanto abbiamo capito è in essere perché è stato appaltato e che recentemente porterà a fare in modo che il porto cominci a poter essere un luogo di attraversamento urbano, un luogo che dia la città e che quindi automaticamente ovviamente conoscendo poi le sue capacità e le esperienze sarà anche un motore di volano di crescita del porto stesso. Le passo il microfono. Sì, innanzitutto grazie per questa occasione perché bisogna sempre un po' parlare anche di un recupero culturale di questa città, poi noi ne abbiamo tante, abbiamo anche Corigliano, Vivo Valencia oltre a Gioia Tauro, ma parliamo di Crotone. Noi per avventura ereditiamo la giurisdizione sul porto commerciale, ma anche sul porto vecchio che è sempre stata considerata poi un appendice minore. Sappiamo l'attenzione che le amministrazioni municipali, la soprintendenza con l'architetto argenti qui presente hanno sempre dedicato al lungomare di Crotone che è un lungomare bellissimo e quindi c'è stata questa occasione di una progettualità sul porto vecchio a cui noi molto teniamo. Abbiamo cercato e ricercato la collaborazione, la sinergia con l'amministrazione municipale, con la soprintendenza dell'architetto argenti e credo che questo progetto ormai è in fase finale. Abbiamo bandito la gara d'appalto e vediamo i risultati che avremo. Quale può essere il ruolo strategico? Lei citava giustamente Corigliano e tutte le altre linee di costa, sia sulla costa Ionica ma anche il ruolo nel Mediterraneo del porto di Crotone che alla scala della città che comunque indipendentemente anche da alcuni suoi punti di fragilità ha delle infrastrutture che potenzialmente la potrebbero ritornare, essere uno dei vari centri tra cui ovviamente la linea relativamente al porto. Quale può essere, almeno qual è la visione che voi immaginate in questo tratto di costa ma soprattutto non solo di questo per quello che è anche un po' il cambiamento delle varie attività che sono presenti poi in tutta Italia delle varie attività portuali di sistema? Allora, parafrasando il vostro slogan è il Mediterraneo visibile, quello che ci interessa. Noi dobbiamo, ora uso un piccolo gergo tecnico, compilare un documento programmatico strategico di sistema in cui daremo a ogni porto del nostro sistema regionale portuale una funzione. La funzione di Crotone è salvaguardare i commerci del porto commerciale senz'altro, sviluppare la crocieristica perché noi abbiamo un traffico di navi da crociera in aumento e dobbiamo risolvere alcuni problemi che riguardano ahimè i fondali del porto commerciale. E naturalmente sviluppare, se sarà possibile, una nautica di porto di grande qualità perché la città di Crotone lo merita. Mi faccio anche aggiungere a una progettualità futura che sarà quella che riguarderà l'area ex Sensi con le demolizioni degli ex manufatti che appartenevano a questa intrapresa commerciale e sarà l'ideale linea di confine e di prosecuzione fra il lungomare e il porto commerciale. Ci penseremo dopo il porto vecchio, quello sarà il progetto principale della portualità crotonese oltre alla ristrutturazione del molo foraneo e alla pedonalizzazione del molo foraneo. Ultima domanda di questo giro di dialogo. Non posso non parlare di un aspetto che poi è stato anche l'incipito ieri sera avviato col sindaco. Nella reazione a questo tema che noi proponiamo relativamente al tema delle linee d'acqua come punto di ripartenza di pensiero e di responsabilità nel confronto del territorio oggi tutto il sistema portuale mediterraneo si pone anche un tema legato chiamiamolo aspetto ambientale, chiamiamolo tema sostenibilità chiamiamolo dal punto di vista che forse i porti stessi possono essere uno dei motori del cambiamento dal punto di vista dell'approccio sul territorio proprio perché sono stati elementi spesso che non si sono occupati di questo tema mentre oggi c'è una grande sensibilità. In merito a questo c'è anche un'attività o un pensiero legato a Crotone o gli elementi oggi in essere su Crotone non necessitano di particolare attenzione dal punto di vista ambientale? Mi viene da pensare che nel prossimo piano operativo triennale dei nostri investimenti rientrano i nuovi sistemi antincendio e di illuminazione che naturalmente saranno tutti legati all'ecosostenibilità. Ci sono anche punti dei nei, diciamo così, o delle preoccupazioni certamente sì, perché noi siamo impegnati a trovare anche una stazione di cold ironing che si chiama così la nuova sistema di elettrificazione delle banchine e questo dovrà riguardare anche il porto commerciale di Crotone specialmente l'approdo dedicato alle navi da crociera. Sommintendente, è già stato detto dal Presidente cogliamo in maniera molto piacevole il fatto che ci sia un dialogo virtuoso tra i vari enti l'abbiamo visto con l'amministrazione comunale, l'abbiamo visto stamattina il dialogo a Capocolonna e ci siamo anche da quello che ha appena detto il Presidente, come ci raccontava prima su un progetto molto delicato come questi progetti che sono su delle linee di confine tra virgolette, o perlomeno sono sempre state tre linee di confine tra città, infrastrutture, tra porti e il progetto che si sta mettendo in atto, anche da come lo accantavi prima è intanto un'operazione di dialogo estremamente virtuosa e piacevole quindi questo vuol dire che si può anche fare cose belle piacevolmente e quindi è un elemento di grande cambio di cultura ma a questo tempo un dialogo poi con la sommintendenza vuol dire che c'è una doppia visione cioè da un'infrastruttura importante, da una presidenza di un'autorità potente del sistema che ha una visione strategica ma anche chi invece, come si diceva stamattina si deve prendere cura del territorio e custode in qualche maniera di quello che deve essere tramandato è importante questo tipo di rapporto raccontaci anche tu com'è che si arriva a questo progetto che è un progetto che mette insieme da un punto di vista due grandi parole per noi fondamentali e anche per la Biennale che è la responsabilità di agire sul reale, la generosità ovvero di immaginare che il progetto debba cominciare a ridare il territorio deve cominciare a ridare a chi lo vive e che lo attraversa proprio attraverso questi tipi di progetti Grazie Questo progetto relativo al Porto Vecchio è stata veramente un'esperienza anche molto bella io devo ringraziare l'ammiraglio Agostinelli che con determinazione ha voluto concentrarsi su un progetto che vuole restituire alla città una parte fondamentale una parte fondamentale che la ricollega a uno dei luoghi più significativi un cuore pulsante la porta di accesso, io la vedo così la vera porta di accesso di Crotone Crotone è una città che vive ed è nata sul mare e quindi questa decisione restituirà, inizierà a restituire una parte fondamentale e questo dialogo che è stato fruttuoso per entrambi perché il mio istituto spesso viene visto come una mera attività dedicata ad autorizzazioni che spesso creano ostacoli in qualche modo l'ammiraglio aveva qualche reticenza, lo possiamo confessare sul fatto che invece fossi determinata tanto quanto lui a far realizzare quest'opera perché ho capito immediatamente quanto potesse essere importante e dirimente per Crotone però il mio contributo è stato quello di veicolare indirizzi che potessero esaltarne alcuni aspetti che potessero veicolare quelli che per noi che ci occupiamo di tutela e ci occupiamo di bellezza potessero essere veramente portati e realizzati e quindi è nata questa sinergia con i progettisti direttamente con l'ammiraglio con cui ci siamo confrontati più di una volta e abbiamo capito che avevamo un obiettivo comune da punti di vista diversi ma che inconvergevano verso una visione che era quella di restituire un luogo alla sua città esaltandone le potenzialità e questo è un primo passo perché anche oggi ho detto che la grande scommessa di quest'area è l'Aria Sensi l'Aria Sensi costituirà l'ACME cioè il punto di arrivo di un percorso avviato e che potrà veramente avviare una progettazione rivoluzionaria per la città io spero che sappia cogliere l'input che è stato dato dall'ammiraglio che tutti quanti continuiamo a lavorare in modo sinergico perché se si arriva ad un risultato è perché c'è capacità di dialogo c'è capacità di anteporre un obiettivo che va al di là della mission del singolo istituto che è quello di porre al primo piano il territorio la città stessa e chi la vive quindi io penso che quando si crea una forza così tangibilmente operante allora i risultati arrivano da soli non si va da nessuna parte e quando c'è scollamento i risultati non arrivano ecco questo è un momento secondo me molto propizio io sono arrivata in una città in cui mi sono trovata un po' spaisata perché non riuscivo a capire certe dinamiche stiamo lavorando tutti verso un obiettivo comune e parlo degli enti che sono protagonisti sul territorio ci sono in ballo tantissime progettualità molti finanziamenti questo è una delle parti più importanti perché guarda verso la città il waterfront è la parte più connotante è il luogo che connette alla città storica alla città antica alla città che si sta rigenerando alla città che vuole che gli venga restituita la sua identità Francesco e poi Sonia diciamo che prima Francesco c'è una grande responsabilità l'ordine e gli architetti perché avere l'occasione di avere due figure così importanti che comunque l'ammirare lo conosciamo e abbiamo già visto la visione su un altro tema molto complesso un territorio complesso come quello della piana di Gioia Taro e delle porte di Gioia Taro quindi muovere un'istituzione che si muove attraverso visione, determinazione e coraggio anche perché va detto magari sono cose normali ma nel paese poi agire vuol dire avere coraggio dal punto di vista di andare al di là di quello che potrebbe essere semplicemente l'applicazione di alcuni obiettivi è uno sommintendente comunque che fin da stamattina io l'ascolto e continuo a parlare da tra virgolette da progettista da chi mette all'interno diciamo del suo ruolo severo, chiaro come deve essere però apre la porta a un ragionamento di progetto abbiamo visitato anche noi o comunque attraversato velocemente l'area Sensi l'area Sensi è Ex-Sensi come si vuole chiamare e ha questa grande sensibilità di essere a cavallo di due porti in qualche maniera quello storico e quello nuovo e a noi interessa anche molto questo attraverso due linee d'acqua perché in qualche maniera evidenza la fragilità di un elemento come dire importante come la linea di costa del mare che in qualche maniera è anche quello più evidente ma si interessa con un'altra linea che abbiamo visto che ha tutta una serie di aspetti su cui dicevamo stamattina forse la grande rigenerazione di tutto il territorio riparte ridando valore e ridando coraggiosamente forse anche va detto bisogna cominciare in questo paese avere il coraggio di demolire le cose brutte insomma non dico le cose belle ma di dare spazio all'acqua allora avete una grande responsabilità e qui con Mediterranea e la Biennale siamo qui a supporto visto che poi avremo tutti gli ordini a tavolo a discutere di questo quindi Francesco qual è la tua visione a queste due aperture importanti e quanto l'Area Sensi possa diventare anche per l'ordine forse uno dei primi elementi di confronto a livello progettuale, corale Sì, grazie Alfonso intanto mi preme dire subito che l'obiettivo che c'eravamo posti all'inizio di questo viaggio l'Auto Crotone credo che sia stato ampiamente raggiunto sono davvero curioso e desideroso di proseguire questo viaggio verso Siracusa perché credo che adesso dobbiamo metterci in ascolto così come è stato fatto a Crotone ieri, oggi una o due giorni davvero di qualità di dialoghi di grande qualità con un'apertura verso prospettive importanti sia quella che abbiamo ascoltato oggi dialogando con la sovrintendente diciamo con la visione che bisogna avere sulla città non come elemento episodico ma come nella sua interezza e stasera parlando di porto infrastrutturazione del porto e ovviamente delle aree a confine con il porto perché al di là diciamo del perimetro di questa linea sottilissima che divide dicevamo pure ieri ciò che divide unisce la città e il mare io credo che in questo momento un'altra sfida vada raccolta e si può vincere dal mio punto di vista perché l'area Sensine è uno dei tasselli di connessione sicuramente e lì sentiamo forte tutta la responsabilità come ordine degli architetti e il resto lo sappiamo questa è una città che nonostante è una città di mare in realtà ancora non lo è perché è una città come spesso per definizione viene assimilata a una città con il mare noi ci aspetta questa sfida e credo che siamo sulla strada giusta proprio per quello che diciamo viene fuori dai dialoghi di questa sera noi siamo assolutamente allineati visto che parliamo di linee di costa linee d'acqua allineati sulle prospettive che ci ha disegnato la totali sistema su quelle che ha tratteggiato oggi in maniera come dire anche appassionata romantica innamorata di questa terra e lo ha dimostrato oggi la subintendente noi siamo assolutamente convinti di poter proseguire su questa traccia io sono contento e fammi comunque ringraziare anche se in un dialogo del genere i ringraziamenti dovrebbero essere evitati però è importante farlo perché se stiamo realizzando questi dialoghi in questo momento in queste due giorni è merito di chi ha creduto a questo progetto sicuramente l'Ordine degli Architetti con il suo consiglio sicuramente la Fondazione dell'Ordine e sicuramente anche altri soggetti che abbiamo coinvolto come per esempio il club velico di Crotone che si è assolutamente adoperato e ha supportato l'iniziativa dell'Ordine a loro io credo che vada rivolto un grande ringraziamento abbiamo credo iniziato messo i piedi giusti in un solco importante vogliamo continuare a camminarci dentro anzi forse è arrivato il momento anche di ricorrere ma noi credo che siamo pronti per affrontare questa sfida nella maniera positiva la sfida è subito lanciata perché Mediterranei ha scelto Crotone Siracusa come tappa propedeutica alla Biennale 2024 che dovrebbe di nuovo svolgersi sullo stretto quindi tra maggio e ottobre quindi qui abbiamo anche come dire il Presidente dell'Ordine di Reggio di Messina che sono parte integrante diciamo dello sviluppo della Biennale e in questo viaggio domani passiamo il testimone a un altro territorio che non a caso con Sonia si è scelto Augusta che tutti conosciamo per tutti i valori le complessità e per i temi che si porta dietro in qualche maniera molto simile a quelli di Crotone e ovviamente a Siracusa quindi domani saremo una giornata di passaggio diciamo per arrivare poi alla giornata di domenica però è chiaro che i temi che stiamo avendo qua poi sono temi anche molto crudi molto duri nel senso che sappiamo che sono montagne molto come dire difficili a scalare però forse quello che si comincia a percepire è che anche queste tra virgolette piccole azioni sono diventate importanti a te per non svelare poi invece quello che sarà la giornata Siracusa la tua prima reazione a quello che è stato diciamo anche la preparazione di questa giornata che sta mettendo a fuoco anche con una certa difficoltà va detto e anticipiamo che quando andremo a Siracusa faremo un passaggio che Sonia e che noi cogliamo un grande interesse un passaggio diciamo un po' più all'interno nel comune di Ferro perché lì c'è un tema molto importante sulla linea d'acqua che attraversa questo paese ma perché ricordiamoci qui non è che lo stiamo dimenticando ma è un lavoro che abbiamo già fatto diciamo nel contesto degli altri viaggi ma qui era importante su Crotone stare sulle tre linee che qui sono molto vicine quindi in qualche maniera l'entroterra interna a questo passo parola a te Sonia per uno scambio allora buonasera a tutti io sono emozionata perché vorrei presentarvi al meglio il mio territorio che è un territorio da un punto di vista naturalistico unico ma che nel corso dei secoli è stato purtroppo mortificato dagli eventi il polo industriale piuttosto che l'abbandono delle aree umide ma provocatoriamente la Biennale aveva spostato il punto ribaltato il punto di osservazione da sud verso nord e noi abbiamo spinto questo punto di vista ancora più a sud nel territorio della provincia di Siracusa che è la zona più meridionale d'Italia e provocatoriamente la scelta del punto di osservazione insomma che andremo a percorrere che andremo insomma a visitare nella prima tappa di questo viaggio è appunto il Forte Vittoria che è una fortificazione che nasce che viene costruita edificata in uno dei due scogli affioranti all'interno del porto perché ho scelto insomma anche con l'autorità portuale che ci consentirà di stazionare in questo punto privilegiato perché avremo la possibilità per una volta di invertire il punto di vista e osservare la costa e il nostro territorio dal mare dove appunto non siamo abituati ad osservare e vedere purtroppo tutte le complessità di questo territorio no vedere le complessità ma purtroppo perché queste complessità e queste emergenze non sono state messe in relazione quindi non c'è sinergia tra esse e quindi l'attività che insomma stiamo facendo insieme al territorio della provincia di Crotone ha una valenza che è quella di sollevare dei dialoghi dei confronti che possano portare speriamo a delle proiezioni in una possibile pianificazione futura dei nostri territori ma la valenza credo sia anche legata al fatto una cosa che mi è piaciuta particolarmente che siamo in questo evento in questa attività siamo riusciti a coinvolgere professionalità diverse non è semplice ma credo che la forza sia proprio questa si parla oggi di interdisciplinarietà di multidisciplinarietà ma credo che la interdisciplinarietà sia qualcosa di più importante perché la capacità di mettere in relazione le conoscenze e i know-how per addivenire una soluzione e quindi credo che se il principio di questa attività sia questo potremo riuscire ad ottenere dei risultati validi grazie Sonia mi viene per chiudere questo talk che ovviamente ha temi intanto vorrei fare un'ultima domanda insieme all'ammiraglio caro suo intendente l'ammiraglio lo dico anche perché fortunatamente noi ci stiamo occupando diverse aree diciamo del Mediterraneo sui porti c'è oggi una coscienza una visione lo dico a lei che si sta occupando di aree importanti complesse che in questi anni poi diciamo hanno stati dormienti per dire che senza assumere poi responsabilità a ciò che è stato prima relativamente sia a Gioia Tave come a di Crotone c'è oggi forse come dire una visione che può passare l'idea che anche il paese possa avere una centralità mediterranea nel momento in cui proprio sulle linee di costa legate al rapporto con i porti si possa nasce una nuova come dire visione del paese che non è semplicemente commerciale nel senso che in una logica perlomeno europea dove bisogna lavorare sull'esistente bisogna immaginare di non andare a occupare nuovi territori di non consumare suoli in realtà abbiamo ampie aree che sono quelle portuali che spesso sono o sottodimensionate o non sfruttate che comunque sono a ridosso della città una logica che prevede ovviamente quello che sta succedendo qua un dialogo molto forte tra la città e il porto per valutare quali sono i punti di equilibrio quello che avrebbe necessità il porto in una dimensione contemporanea che magari può non essere più sufficiente che magari libera aree in altre situazioni vediamo quello che sta succedendo a Trieste vediamo quello che sta succedendo in altre città vediamo anche alcune cose tipo Livorno che magari è sbilanciato ma che comunque cambieranno questi tipi rapporti c'è qualcosa che però va in una direzione forse ancora episodica però sarebbe interessante non so se passerà questa legge che poi cambierà di nuovo l'autorità e il sistema o meno non si sa però vuol dire io trovo che oggi probabilmente si parli poco del fatto che i porti in una visione molto unitaria del paese potrebbero essere una chiave straordinaria per capire dove il paese potrebbe andare perché hanno questa potrebbero avere questa capacità di sintesi di toccare tutti i temi tutte le complessità tutte le fragilità tutte le frizioni tocca tutti i punti allora questa presa di coscienza potrebbe essere interessante per immaginare che laddove bisogna intervenire necessariamente non sia solo un intervenire per fare ma possa essere anche un intervenire con un pensiero nuovo che sia molto più ampio e che possa nascere ovviamente da esperienze già in esse non so la sua visione in merito lei mi fa una considerazione che mi occorrerebbe qualche ora guardi il punto che mi piace molto partecipare a questi dialoghi con naturalmente esperti molto bravi del loro settore lei poi architetto ha usato delle parole bellissime la farei ministro dei trasporti guarda perché lei ha detto una cosa bellissima sull'importanza della portualità noi stiamo cercando molto lentamente di dare un segnale attraverso questo documento di sistema portuale per assegnare ad ogni porto calabrese una funzione dialogando con l'associazionismo con poi vedi succede che una direttiva europea taglia fuori Gioia Tauro dal dialogo mediterraneo punendo non Gioia Tauro tutti tutta una serie di porti dell'Europa mediterranea nei confronti poi di altri porti che si trovano Medio Oriente Turchia e soprattutto Nord Africa ecco questo è una cosa che al di là delle bellissime parole che ascolto poi il problema che io domani mattina devo andare ad affrontare certamente io non ho il livello di interlocuzione europea ma dobbiamo arrivare a questo livello di interlocuzione ecco questi sono i problemi che in Calabria ci troviamo ad affrontare lei citava prima una serie di porti italiani Trieste la mia Livorno io aggiungerei anche Genova beh vi posso dire che Gioia Tauro sconta da sempre un gap rispetto alla politica nazionale che non premia le eccellenze che noi troviamo in Calabria perché abbiamo un porto sicuramente straordinario che potrebbe essere l'unico porto italiano sto dicendo un paradosso ma Gioia Tauro potrebbe essere l'unico porto italiano e gli altri porti che noi potremmo servire mi spiego invece ci troviamo a combattere per la nostra stessa sopravvivenza chiudo dicendo una cosa seria e una battuta la cosa seria è che mi piace confrontarmi con le problematiche di Crotone domani sarò a Corigliano e a Viva Valenza Marina noi abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa noi abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa solo a una condizione una sinergia con le amministrazioni municipali con le soprintendenze con gli altri enti che hanno competenza in materia perché noi dobbiamo lavorare per il cittadino crotonese per il cittadino vibonese per il cittadino coriglianese offrendo in certe situazioni un porto a favore della cittadinanza poi Gioia Tauro sta in un enclave noi sappiamo qual è la destinazione funzionale di Gioia Tauro ma ci piace esercitarci in questo esercizio in Porte Come Crotone e vi ringrazio per questa occasione la battuta è questa che stavo parlando e stavo dicendo che parlo con dei professionisti di elevatissime capacità io mi sento un po' un pesce fuor d'acqua in queste in questa situazione però siccome mia figlia si è laureata in architettura sta lavorando in Danimarca ecco vabbè li racconterò di questo episodio e mi sento un pochino più a mio agio grazie grazie Miragli lei ha toccato il tema in realtà che che volevo sollevare è chiaro che la politica quando parlavo di far sistema a livello nazionale la politica deve scontare il fatto che Tangier Med ha chiaramente spostato gli equilibri nel Mediterraneo c'è una politica di un certo tipo è chiaro che la direttiva europea che penalizza Gioia Tauro è figlia anche di una politica italiana che non vede Gioia Tauro come hai detto prima nel sistema vero complessivo lei veramente non ministro dei trasporti commissario dei trasporti a livello europeo bisognerebbe nominarla Tangier Med rispetto a noi aveva un grande vantaggio il costo del lavoro ora rischia di avere anche il vantaggio della logistica e del costo del trasporto e sarà impossibile per noi competere con i porti come Tangier Med non d'accordo è per quello che bisogna fare a sistema chiudiamo l'amiraglio ha detto molto bene diciamo che l'importanza anzi il suo desiderato e quello che sta facendo il territorio è questa sinergia operativa e culturale quindi poi come sappiamo tutti è un uomo concreto e quindi come stiamo apprezzando anche la sua concretezza quindi è una palla anche importante per la sua intendenza che sappiamo che ha mille difficoltà in termini generali però questo cambio di approccio del dialogo può essere anche un punto virtuoso nel senso che questa condizione un po' come dicevamo noi di essere un po' ai confini dell'impero è anche quella condizione che oggi permette di essere molto agili se si vuole perché io penso che noi pensiamo che in questi contesti la differenza fa veramente la volontà e la determinazione in altri contesti non è più sufficiente per l'osseramento perché ormai la complicità ha raggiunto una modalità talmente non virtuosa che rischia di fagocitare anche quello aspetto mentre qui il fattore della persona il fattore di voler dialogare il fattore di voler veramente fare qualcosa di progettatore può essere significativo quindi questo dialogo è estremamente importante quindi ti lascio chiudere la serata con una parola positiva con una frase una battuta non so la figlia di Marca si esercita molto bene diciamo perché lì è una sintesi di infrastrutture territori pesaggi e architettura e quindi a te io credo che i risultati che stiamo vedendo siano figli di un profondo convincimento che ci accomuna il dialogo e la consapevolezza di trovare un punto di congiunzione è l'elemento fondante per ottenere risultati concreti e veloci la concretezza che si può raggiungere in ambiti più piccoli più provinciali forse a questo contatto diretto questo è un vantaggio ecco noi ne abbiamo fatto sicuramente un'occasione di crescita reciproca perché abbiamo capito che confrontandoci possiamo raggiungere obiettivi che ci portano verso un comune intendimento questa è una forza che ci deve animare ci spronerà e secondo me ci farà ottenere spero anche a breve con l'avvio del cantiere in cui tutti potranno tangibilmente vedere quanto le parole si trasformino in atti concreti è quello che può generare una capacità di dialogo e quindi auspico che questo possa continuare a vari livelli e con gli altri enti con cui lo sforzo maggiore e l'energia maggiore almeno per quanto mi riguarda appena inserita è stata proprio quella di cercare di essere dialogante di capire capire le criticità e coinvolgere tutti per trovare insieme una soluzione io chiedo con una battuta cedo subito il mio ministero trasformandolo in cultura a Stefania Gentili perché una sommettente che dice che bisogna andare veloce è qualcosa di abbastanza innovativo per l'Italia quindi grazie a tutti grazie grazie